Romina Power non si arrende e continua a sperare di poter riabbracciare un giorno sua figlia Ilenia Carrisi. Scomparsa misteriosamente a cavallo tra il 1993 e il 1994, l'ultimo dialogo tra la famiglia e la ragazza. All'epoca della sparizione aveva 23 anni. È datato 1 gennaio 1994. Ilenia chiamò dalla Louisiana. Dal telefono dell'Eda Leotel di New Orleans. Poi il buio. Di lei non si seppe più no. Oggi 29 novembre 2021. La figlia di Albano e Romina avrebbe compiuto 51 anni. Per mamma Power ha compiuto 51 anni. La cantante statunitense ha sempre sostenuto di credere che il suo frutto d'amore non sia morta. La pensa in maniera differente il suo ex marito. I due artisti. Di recente. Sono tornati a parlare della figlia. Romina. Nelle scorse ore. In occasione del compleanno di Ilenia. Ha pubblicato un paio di post struggenti sui social. 51 anni fa a Dio ha fatto nascere una bellissima bambina. Intelligente e amorevole ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una serie di foto della piccola Ilenia in cui compare anche un giovane Albano. Le braccia di mamma non smetteranno mai di desiderarti. I miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che senza di te non ha più calore. Ilenia. Mai smetterò di cercarti. In un secondo post ha divulgato un video con degli scatti teneri e familiari. Impreziositi da un tappeto musicale intimo.